Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di cambiamento emotivo, supportata da una figura misteriosa. Mentre Fedez si gode la sua libertà sociale dopo la separazione, Chiara sembra adottare un atteggiamento più riservato. Le voci su possibili corteggiatori sono state molte, ma lei ha smentito tutto, tranne per i pettegolezzi su Silvio Campara. Selvaggia Lucarelli ha descritto questa situazione come una svolta, con l'uomo che aiuta Chiara a riprendersi. Durante l'estate si sono susseguite voci su presunti flirt di Chiara, da Tony F. a un medico, fino a Silvio Campara. Quest'ultimo non è mai stato negato, suggerendo una possibile relazione. Gabriele Parpiglia ha rivelato che la moglie di Campara ha offerto sostegno a Chiara in un momento difficile. Il legame tra Chiara e Campara non si basa su un'amicizia preesistente, ma su un gesto di solidarietà della moglie di Campara, Giulia. Durante un soggiorno a Forte dei Marmi, le due donne si sono incontrate e Giulia ha offerto a Chiara supporto emotivo e professionale per rinascere come brand. Il viaggio romantico in Perù pianificato per Chiara e Campara è stato interrotto, ma sembra che la relazione stia crescendo. Resta da vedere come evolverà questa storia intrigante tra la celebre influencer e l'imprenditore. Chiara Ferragni sembra pronta a superare le sfide emotive con il sostegno di...